Il giornalismo tra bufale, fake news e disinformazione. Un tema di grande attualità al centro dell'incontro tenutosi giovedì sera all'Hotel Marad, promosso da Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani. Un'occasione per comprendere con gli autorevoli relatori intervenuti come distinguere una notizia vera da una fake news e riflettere sul ruolo di grande responsabilità che ricopre oggi il giornalista. Ai microfoni di TV City Francesco Decore, direttore del Mattino, e Antonio D'Amore, docente di sociologia della comunicazione digitale all'Università Federico II di Napoli. Siamo entrati nell'era dell'informazione dove c'è un apporto attraverso i social molto forte e dove tutti possono accedere ai social naturalmente e tutti possono pensare di dare delle informazioni. Il vero grande problema è quello della disintermediazione, cioè dell'assenza di competenze. Ci dobbiamo affidare a siti o comunque a un'informazione cartaceo digitale che sia, come si dice a Napoli, consacrata e comunicata. Deve avere una sua autorevolezza, la fonte deve essere autorevole. Tutto questo spesso non accade e questo è un fenomeno di disinformazione. Peggio c'è il fenomeno delle fake news, cioè di notizie false che vengono inoculate nel sistema dell'informazione e tendono naturalmente a sviluppare all'interno dell'opinione pubblica una credenza su alcuni fatti completamente errata. Spesso il lettore è disorientato e fa fatica a distinguere la fake news da una notizia vera e propria. Assolutamente sì, perché non riesce a capire la fonte che ha sprigionato questa notizia. Allora il compito dei giornali e compito degli organi di informazione che hanno nelle loro fila bravi giornalisti che riescono a risalire alla fonte e riescono a dare le notizie certificate. Il giornalista ha un ruolo dunque di grande responsabilità, è una professione difficile e affascinante allo stesso tempo. Come avvicinare oggi i giovani a questa professione? Oggi l'accesso alla professione è più codificato attraverso le scuole di formazione, che sono la scuola di formazione dell'ordine, che sono le università, che hanno i corsi di scienze e della comunicazione. Credo che sia importante seguire le scuole di giornalismo e l'università, portare a termine gli studi, confrontarsi anche all'interno di laboratori che hanno già delle strutture per siti web, per il digitale, per i social, che ti fanno stare al passo con i tempi e poi dopo mettere a disposizione di una testata questo bagaglio di informazioni e questo bagaglio culturale che naturalmente è il sostrato per poter essere oggi un buon giornalista. Questa professione ha ancora oggi una funzione di utilità sociale? Assolutamente sì, io dico che ancora più oggi il giornalista ha una funzione, sia rispetto al fenomeno delle fake news come abbiamo detto, ma anche rispetto a quello della disintermediazione, cioè alla comunicazione diretta rispetto all'opinione pubblica. Stasera qui a Torre del Greco si parla di fake news e disinformazione, come far fronte a questi fenomeni? Queste fake news stanno dilagando, ci sono dei metodi per cercare di arginarli e poi ovviamente bisogna dare un'importante istruzione a quelle che sono le persone per far capire qual è la differenza fra una notizia reale e invece una notizia che poi noi chiameremo fake news. Ecco allora qual è il criterio che il lettore deve adottare per poter fare questa distinzione? Non fermarsi mai alla prima apparenza, cioè andare a certificare e andare a vedere anche su siti certificati, quelli che naturalmente, banalmente noi chiamiamo la certificazione della notizia. Come mai la scelta di questo tema? È perché crediamo che questo tema sia di straordinaria attualità in questo momento, dove si parla di infodemia, dove si parla di una diffusione di notizie prive di nessun controllo e dove anche il lettore ha veduto, ha difficoltà a comprendere se siano reali o se siano artefatte o se siano addirittura delle finzioni. Ricordiamo quali sono le finalità e qual è la mission del Rotary Club? La mission del Rotary Club è servire. Sono un club di servizio, è un club che è un network di volontari che ha circa un milione e mezzo di aderenti in tutto il mondo. Noi facciamo servizio sul nostro territorio, però contemporaneamente contribuiamo ad attività di volontariato, di difesa dei deboli in tutto il mondo.